Ciao ragazzi, avete saputo la notizia che Shadowhunters purtroppo è stata cancellata, la serie tv su Netflix e molti sono arrabbiati, chi lacrime, insomma stanno cercando di fare andare avanti anche con le petizioni però adesso questo non so se può aiutare, comunque è stata cancellata non credo per il fatto di visualizzazioni perché è molto conosciuta alla fine, poi molti la seguivano, quindi dicono questa notizia adesso che è stata cancellata per un fatto economico, quindi degli accordi tra Netflix e Freeforma mi sembra aver capito allora, chi è pro serie tv e contro la serie tv perché ci sono stati anche questi problemi all'inizio c'è chi dice il libro, un'altra cosa, il film è stata un'altra cosa e anche la serie tv un'altra cosa insomma sono tre cose completamente diverse, la trama non viene rispettata, invece su quell'altro, su un film lo stesso alcune cose sì, alcune cose no, insomma voi cosa dite? allora la prima domanda è, è meglio la serie tv? cioè sì serie tv o no serie tv, quindi è meglio che l'hanno cancellata oppure no? no, cavolo, mi dispiace poi sì, chi è che ha letto i libri, quindi metti i libri oppure il film con Jamie Campbell Bauer e Lily Collins voi? da che parte state? sì serie tv, una serie tv e film, telefilm o libro? è stato un peccato anche che hanno cancellato il film perché secondo me potevano, se andava avanti poteva essere veramente la saga più bella probabilmente, versione cinematografica però hanno fatto anche la serie tv, mi dispiace che adesso cancellano anche la serie tv perché comunque poi gli attori insomma sono belli, adesso io non so se sanno recitare o meno c'è chi dice, beh io ho visto poco per il momento, per chi aspettavo che c'erano tutti gli episodi e aveva tutte le puntate però ecco, adesso credo che si fermano la terza e non faranno più niente quindi voi che dite? mi dispiace un pochino perché il protagonista di Jace mi piaceva, attore molto bello, biondo ok, lo stesso era dal film, a me piace molti molto di più, ma anche i libri specialmente però ok, voglio sapervi la vostra, voi che dite? una grande bella domanda questa film, serie tv o libro? dite la vostra, fate i registi voi dai ciao alla prossima